Un divano che riproduce lo skyline di New York di notte, notturno New York, riedizione di Gaetano Pesce del suo storico divano del 1980 che si chiama Tramonto a New York. Siamo nello stand di Cassina all'interno del Milano Design Village di via Savona 56, nel cuore del fuorisalone. Dietro allo stand di Cassina, ci stiamo andando, c'è il mondo immaginifico di cappellini con la collezione di pezzi dedicati a Walt Disney e accanto la grande casa delle bambole che celebra i suoi pezzi storici. Continuando nel nostro tour abbiamo lo stand di Poltrona Frau, leader del gruppo che raccoglie tutti questi brand, all'interno del quale la novità più importante è il divano che intravediamo lì in colore beige di Cini Boeri che si chiama Bebop. Molto bello e molto comodo, noi l'abbiamo provato. Tornando invece da Cassina, una menzione certamente la merita, la sedia di Albini, Canapo, Albini è uno dei grandi maestri di Cassina, e questo tavolo che abbiamo davanti adesso, che si chiama 61, 61 pezzi unici realizzati sempre da Gaetano Pesce che riproducono ciascuna una parte dell'Italia, sono in vendita all'asta. Grazie. 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 Grazie.